Sono finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, a scisce e cocaina, Marco Aiello e Luciano Gatto, entrambi originari di Catania. Il blitz della squadra mobile è scattato dopo diverse segnalazioni da parte di genitori molto preoccupati perché i figli frequentavano assiduamente due fratelli di origini catanesi che spacciavano droga marina di Ragusa nei luoghi della Movida. Dopo il primo controllo andato a vuoto perché l'esigua quantità di droga ritrovata non ha permesso di proseguire e con l'arresto i due fratelli si erano spostati prendendo in affitto una casa da un giovane ragusano di fronte a un noto punto di ritrovo dei giovani. Ai due fratelli inoltre nel periodo estivo si aggiungeva un amico proveniente da Catania che li aiutava nell'attività di spaccio. E scattato così il blitz nell'appartamento e con l'aiuto del cane Iagus dell'unità cinofila di Catania i poliziotti hanno potuto smascherare l'attività illecita. In casa c'era solo uno dei fratelli segnalati dalle famiglie ragusane con l'altro complice catanese un giovane acquirente. Il cane ha affiutato immediatamente la droga nascosto un po' ovunque nell'abitazione, dietro un comodino, poi nel forno e poi ancora nello stipide delle porte dietro un mobile. Al termine della perquisizione sono state rinvenute 25 confezioni di hashish, 20 di marijuana e della cocaina. Sono state inoltre ritrovati 800 euro in banconote di piccolo taglio presumibilmente frutto dell'attività di spaccio. Al termine della perquisizione Aiello e Gatto sono stati arrestati. Gatto al termine delle fasi processuali sarà condotto con foglio di via obbligatoria a Catania e non potrà tornare a Ragusa prima di tre anni.